Calcio di rigore, calcio di rigore, ha atterrato Teddy Mata, il nostro capitano, calcio di rigore, ci troviamo solo 0 a 0, espulso anche un avversario, non so forse ha protestato vivamente o ha detto qualcosa all'arbitro. Calcio di rigore a favore nostro, ci troviamo solo 0 a 0, speriamo che Teddy Mata con la sua freddezza realizzi questa rete, ecco il nostro Mata, rete, rete, siamo passati in bandaggio per 1 a 0, gol di Teddy Mata, il nostro capitano che viene festeggiato dai compagni, 1 a 0. Arbitro, sei pronto?